In Comedia è un'azienda di software che crede molto in questo progetto della cucina mobile a Roma per tre motivi. Il primo che è un aiuto subito che va a soddisfare con l'erogazione del pasto proprio uno dei bisogni primari dell'uomo che è quello di mangiare. Il secondo perché è un aiuto concreto subito disponibile e terzo perché è una piazza di Roma che ha veramente bisogno di questo tipo di supporto. In 15 giorni ho perso tutto.